I tifosi devono essere altrettanto di quel livello lì, queste vittorie qui servono a dare forza e visibilità a quello che è l'amore del calcio dei napoletani, quella che è la passione infinita che hanno per questa squadra qui. Il mio figlio che veniva da fuori sull'aereo per venire a Napoli, erano tutti napoletani che venivano a vedere la partita, tutti a cantare le canzoni del Napoli, quelle robe lì sono le robe belle dal calcio, non andare a far casino per le città.